Samuele Sereni, nella settimana che precede la partita di playoff dell'Arezzo, come vi state preparando a questo incontro? Ci stiamo preparando bene, ripartiamo oggi, abbiamo avuto due giorni di stop, quindi la squadra sta lavorando bene per cercare di affrontarle nel miglior modo possibile e cercare di arrivare più in là, quindi cercare di raggiungere il massimo che si può ottenere. È stato importantissimo il piazzamento ottenuto in Coppa Italia? Credo che sia un riconoscimento importante, esserci rientrati con la Coppa Italia invece che con il campionato, anche perché penso che è una piazza che meriti e allora noi cercheremo di onorarli al massimo, ne siamo tutti consapevoli, quindi cercheremo di metterci il massimo impegno, il più impegno possibile per cercare di arrivare più in là, per cercare di raggiungere quella che potrebbe essere anche la finale, visto che partiamo dagli ottavi. Avete un po' la consapevolezza di non avere nulla da perdere in fondo? Sicuramente ora è meglio perché non abbiamo l'assilo dei risultati come avevamo fino a domenica scorsa quando abbiamo raggiunto la salvezza, quindi credo che la squadra sta bene, quindi possiamo giocarcela con tutti senza nessuna paura.